direi adesso di dedicarci una ventina di minuti per presentare il percorso death life questo gioco di parole ecco la vita questa è vita death life invece la morte vita oppure la vita della morte noi siamo qui per scoprire il dolore il lato oscuro della morte ma scoprendolo ci aspettiamo di vedere riverberare irradiare il lato luminoso che porta in consegna una luce indomabile tanto e forte questo primo incontro un incontro dedicato alla presentazione del percorso e di preparazione all'accostamento a questo percorso al come approcciare ecco questa è una frase di ghete ghete antroposofo grande illuminato via grande viaggiatore viaggiatore astrale prende informazioni prima mano la vita voleva così tanto avere più vita da inventarsi la morte e qua c'è già la giocosità necessaria ad affrontare veramente ma vedete la morte come come agisce il racconto di questo episodio tra me e vincenzo no l'aggettivo che mi venne è proprio birbona o birbante una cosa del genere birbante no 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 aspetta quella era aspetta perché fa questi scherzi sia la vita che la morte giocano uguale perché poi sono due facce la stessa metà di condivideremo solo tre punti in queste queste slide che speravo che fossero tre nel farle ne sono uscite dodici quelle che cercherò di essere veloce ma sono tre punti il primo è perché voglio dire a alle anime voglio condividere con le anime che stanno ascoltando in questa costellazione prima cosa ci dobbiamo dire intanto a chi stiamo parlando di chi stiamo parlando ma chi sei tu chi crede di essere chi è che sta parlando a chi sta cosa sta parlando da dove viene questa roba che parla questa roba che ascolta e dove va a finire perché se non capiamo chi siamo o non ci interroghiamo non mettiamo in dubbio il nostro processo di identificazione in questo quello non ne veniamo a capo della morte tutto parte da questo chi sono io da dove vengo qual era la cosmogonia e la nascita del cosmo ma dalla nascita del cosmo c'è la nascita della materia c'è la nascita anche però della vita della vita della nascita del regno i vari regni organici in organici tra quelli organici quello minerale quello vegetale quello animale quello cellulare quello umano ma sto materiale sto essere umano viene dalle scimmie se tu ti identifichi in una scimmia poco poco più lavata sotto le ascelle o con meno peli un po più istruita e difficilmente tu puoi affrontare questo viaggio se approdi invece una cosmogonia un po più reale rispetto a queste barzellette che insegnano a scuola forse diventa un po più semplice iniziare a comprendere il vero processo della morte quindi chi siamo da dove veniamo poi un altro punto essenziale che sta succedendo adesso nella tua vita individuale e guarda caso ne sono sicuro che puoi fare uno specchio con la vita esterna che cosa sta succedendo al mondo nel mondo nell'universo nel cosmo che cosa sta cambiando perché tanta morte perché tanta paura di morte e poi il punto essenziale vediamo in maniera molto veloce in una sola slide tutto il ciclo della vita che è il ciclo della nascita vita morte e rinascita e devo dire che ce n'è anche un altro perché tra la morte e la rinascita ce n'è un altro che l'intervita ma per me è sempre vita non è un intervita è vita pura e lo vedremo insieme vedremo anche quindi la mappa multidimensionale multidimensionale della vita umana molto velocemente procediamo perché sono piccole chicche che vogliono aprire a delle frequenze più che a lasciare nella vostra mente delle informazioni delle nozioni il materiale di cui parlerò lo potrete nel percorso visualizzare nelle slide riascoltare con il video e quindi rielaborare poi successivamente quello quello che ci stiamo dicendo raccontiamoci una storia molto brevemente diciamocela così da dove veniamo raccontiamoci una storia un giorno ed era il giorno in cui ci rendevamo conto di essere una cosa sola sperimentammo voler volemmo sperimentare la capacità di conoscerci cioè di godere delle cose che noi avevamo nella nostra unità quando tutto era uno e vi voglio ricordare che ancora tutto uno e quindi parlo di una traslazione temporale che sta solo nel piano materiale perché ancora tutto nel qui ed ora però c'è stato un momento in questo non tempo in cui coscienza l'unità questa unica intelligenza per potersi sperimentare compresi di doversi separare di dover avere una scissione uno specchio io non mi posso osservare fisicamente non posso conoscere la mia forma e non posso sorridermi o darmi un bacetto se non c'è uno specchio non posso interagire una parte non posso conoscermi e quindi da lì nacque allora vedete che quella che vi sto raccontando come storiella e alla base di della maggior parte delle cosmogonie di questo pianeta se possiamo dire così cioè di qualunque latitudine di qualunque epoca la maggior maggior parte delle cosmogonie dichiara questo inizialmente eravamo una cosa sola e poi piano piano dalle stelle scendevamo e costruivamo vite no chi la racconta in un modo che non un'altra in un altro comunque in una dimensione che questa in questo momento la dimensione terrena quindi c'è una un'unità che ha una sua coscienza pura totale ma che non riesce a tirare fuori la propria ricchezza da sé ha bisogno di un oggetto uno strumento una separazione un'altra parte di sé per poter tirar fuori conoscere sperimentare mettere in movimento con l'energia vitale nella sua unità nulla si muove se non c'è un un terzo un terzo elemento una terza forza quest'unità è fatta del fai dell'omega l'inizio e la fine il principio è la fine di ogni cosa e in quello in quell'unità in quel campo di energia la vacuità o la sorgente chiara luce luce pura luce vera anche lì la decimita dio grande spirito la grande madre anche e poi veniamo da lì l'alfa e l'omega e lì torneremo e qui vediamo anche un simbolo loro boro che ci ricorda uno dei primi simboli no archemici in assoluto proprio il ciclo della nascita della vita e della morte della rinascita attraverso una forma di energia particolare quella rappresentata dal pente non stiamo qui a spiegare ma chi ha seguito i miei seminari avrà sentito chissà molte volte vari approfondimenti attraverso la distruzione quindi un corpo che mangia se stesso apparentemente un altro è possibile la creazione senza distruzione impossibile la creazione senza morte impossibile una nuova vita un'evoluzione torniamo un po a questo giro che noi compiamo chiediamo proprio all'unità la coscienza alla madre a noi stessi alla nostra parte più alta di essere noi stessi creatori di essere noi stessi capaci di creare quella bellezza con la luce enorme infinita e di poterne nel frattempo imparare da noi stessi quindi abbiamo chiesto noi stessi in questa favola che vi sto raccontando di staccarci dalla nostra embrione spirituale energetico nel quale tutto c'era ma nulla si poteva sperimentare chiediamo una caduta una separazione quindi dall'uno cominciamo in senso orario a entrare nella materia in senso orario entriamo la materia c'è una caduta che cos'è questa caduta è un distacco della nostra parte essenziale dalla parte essenziale da cui proviene è la morte noi per vivere per comprendere crescere non lo sapevamo aspettate devo chiudere quello di rosa che e c'è riverbero ok noi non lo sapevamo ma chiedendo questo abbiamo chiesto di in qualche modo morire cioè di dimenticare di chi siamo e di sperimentare la nostra presenza con la nostra forza vitale perché portiamo con noi mica una cosetta così cioè noi ci portiamo dietro in questo un'energia che è sufficiente a illuminare non una terra perché piccola cosa ma qualche universo cioè nel tuo corpo forse vorrei essere un po più chiaro sappi che il tuo corpo gestisce un'energia che è centinaia di centrali nucleari e attenzione quando noi scendiamo portiamo con una femmella divina che ha un potenziale energetico enorme e potenzialmente infinito dipende da noi ok come tutte le cose sapete che se non viene usata a nostro favore probabilmente di una stata contro di noi ricordiamocelo sempre questa è una grande forza tu non lo sai forse non lo ricordi mai chiesto di essere dio non sto facendo lo spoiler perché praticamente qui c'è tutto il viaggio ma dobbiamo già entrare un po so che un po disturba quest'immagine ma attenzione perché il gioco è questo io so perfettamente che sto parlando ad anime che non è un caso se sono qui ma sicuramente non tutte hanno vinto la paura della morte assolutamente non tutte la maggior parte non solo non l'ha vinta ma sono certo ha un'identificazione di sé che non è bassa ma è microscopica rispetto a quello che dovrebbe essere se tutti conoscessi non sto parlando di me sto parlando di te per cui nel momento in cui noi ci portiamo dietro questa separazione non siamo nudi portiamo l'energia vitale energia sessuale energia creatrice già che tutto può ma che deve passare attraverso una a una coscienza consapevole per potersi manifestare in questa caduta c'è un distacco dalla parte spirituale e un collegamento una discesa una discesa nella carne nella materia no e il talento mercuriale che dobbiamo sviluppare cioè quello essendo noi spirito di saper star dentro la carne alla materia inerte no e qui nasce un conflitto tra nostra parte essenziale animica che vuole giocare che non ne ha proprio non ha paura della morte ma non c'è anzi anzi e non per una questione di perversione ma una questione di intensità di informazioni elevate la morte per lei l'esperienza amata esperienza più cui più importante quindi non è quello anima e viene qui in qualunque dinamica venga richiamata la sua energia vitale essenziale e estroversa maschile in quel caso lì maschile in quel caso lì il gioco del principio maschio e femminile lo vedremo che si 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 aggrovilla si scambia di posto passaggio dal dal di qua al di là si scambiano di posto quindi quel momento si estroversa in maschile ma perché è una curiosità femminile una curiosità è un amore di erotico no è un amore eros non un amore di un altro tipo in questo momento mi piace indagare cioè quella attrazione verso la vitalità animica dell'altro o anche di una perfezione nell'imperfezione di qualunque tramonto di qualunque albero di qualunque sguardo è curiosa vuole vedere la vita nelle cose vuole riunirsi alle cose e ma questa cosa qua questa esperienza qua non la fa da sola la fa dentro un corpo un corpo che ha una mente cervello diciamo e delle emozioni un corpo mentale un corpo emotivo e questa attrezzatura costi crea da sola la personalità cioè un qualcosa nella quale nel quale tu ti riconosci e ti perdi dimenticando di essere anima e credendo di essere solo stefano petrucci che parla che scrive che fa fa ecco in questa caduta c'è questa separazione tra se stesso e l'idea che noi abbiamo poi soprattutto c'è un conflitto che mentre anima vuole giocare a coraggio ma non è coraggio è quasi incosciente se viene qui per giocare per smuovere perché ci porta con sé una follia geniale che è quella che dovremmo tutti quanti imparare ad esprimere che non può non creare fuochi d'artificio se ciascuno di noi fosse anima pura saremmo dei pazzi meravigliosi ognuno diverso dagli altri tutti perfettamente in armonia incastrati nessuno omologato eppure ci capiremmo al volo e questa cosa per la personalità invece non può funzionare così la personalità nasce per uniformarsi a quello che c'è fuori alla mamma che così la tengo contenta se non mi dà gli schiaffi al papà e poi ai parenti e poi alla scuola e poi i preti poi governatori e quindi la mia personalità che io creo la creò per piacere fuori non per piacermi dentro e anima invece che parla da dentro dice ma come io ti sto dicendo mai adesso a destra e tu mi fai tutto un programma per tutta la vita a sinistra adesso gira un attimo a destra no no perché a sinistra casa lavoro studio amore matrimoni figli progetti lavoro economia città tutto già segnato e anima dice ma ci sta dice mo gira a destra adesso gira a destra nel qui ed ora e fanno a cazzotti perché quella vuole godere a destra perché secondo lei c'è una stradina dove chissà che cosa può incontrare invece la sua personalità ha l'orologio che dice adesso devo fare questa cosa no per carità che mi porti lì è pericoloso fanno a cazzotti tutto il tempo e questa cosa crea grande insoddisfazione una grande insoddisfazione che cominciamo a misurare questa spirito che deve trovare posto nella carne a difficoltà perché la carne rappresentata da un sistema software e hardware che prende il comando in mancanza di una nostra coscienza mentre emozioni e corpo sono una struttura autonoma non avrebbero energia perché l'energia propulsiva gliela dai tu come coscienza ma non lo sai con anima senza anima saresti un burattino morto eppure diamo credito a tutto quello che produce la macchina non ciò che all'origine il seme animico perché non ci hanno insegnato ad entrare in contatto con anima e neanche entrare in contatto con le tue personalità perché sono lo scopriresti subito anni crediamo di essere io io chi tra tante personalità nessuno di tutte queste quindi la personalità nasce per farti sopravvivere qui fisicamente al corpo che non deve succedere niente e socialmente fuori perché devi essere accettato e allora diventi corrompibile sia sulla paura della salute sia sulla paura della salute sociale diventi corrompibile e anima se ne fotte altamente sia della salute che del della salute sociale e allora fanno a cazzotti sapete qual è il movimento che perché poi bisogna vederlo dentro di sé anima tanta roba che sta dentro una cosa una roba piccola allora anima dice spinge un po generale a destra si ingrandisce si espande per farsi sentire per fargli creare uno spazio di consapevolezza non di corpo fisico ma di con di cellule sì quindi il corpo fisico punto di vista cellulare sì la magia del nostro corpo poi la vedremo ma espandere questa roba qui noi abbiamo anima che spinge verso una evoluzione con amare conoscere viaggiare abbracciare aprirsi non avere paura dei contraccolpi delle cose c'è tutta sta propulsione un po folle e l'altra invece è l'isterica la parte isterica spaventata che deve compiacere che deve trattenere che deve fare e che si sente che una volta che aveva trovato nel suo cazzo di equilibrio arriva anima di nuovo boom e gli chiede di ingrandirsi ed entra di nuovo in soddisfazione certo certo quello è il processo evolutivo ma cazzo scusa non ero già cresciuto non stato già bene ero già svegliato rapporto animico no perché anima dopo che sei arrivato al tuo limite può farti crescere ancora e se tu ti sei seduto nella tua zona comfort come fa sempre la personalità fino a che non non impara fino a che non te la crei tu fino a che non diventa funzionale al progetto animico però due fanno sempre a cazzotti ma sono due sagone mi mi e cocò cioè dobbiamo soltanto innamorarci di queste due entità e vederle dialogare dialogare e mettere la terza forza a gestire questo dialogo e la nostra coscienza quindi questo ci fa stare una continua insoddisfazione e incertezza nella vita se tu hai un insoddisfazione congenita in termini di autorealizzazione per esempio sappi che stai bene se non ce l'avessi avresti un problema se hai una insoddisfazione congenita quello che tu puoi essere e perché anima ti spinge per crescere hai la hai assecondata si è cresciuta ti sei strutturato hai consolidato integrato quella crescita evolutiva dopo poi ti spinge di nuovo e dice no caspita mi hanno fatto la casa no rompi questa casa ci vuole un'altra casa e che cacchio e no ma qua è una vita tranquilla o non la posso fare quando posso andarmene in vacanza quando posso starmi bene bello tranquillo e come tranquillo andiamo a giocare tranquillo anima gli piace un sacco stare tranquillo ma presente impegnato cioè che tu dedichi attenzione alla tua sfera interiore sospendiamo un attimo questo viaggio per farvi vedere che è un po quello che lo vedremo me molto meglio però già che approfitto e farvelo vedere noi arriviamo qui in terra un corpo fisico e eterico in realtà passando partendo da un corpo causale animico prendendo un corpo mentale prendendo un corpo emotivo ed entrando in un corpo fisico attraverso un corpo eterico ok questo il processo della caduta che stiamo vedendo in un cerchio ve lo faccio vedere a modo mio questa avete visto nella slide spagnolo che ho presa così al volo questo invece fa parte di un percorso molto tecnico sulla creazione di realtà e il nostro viaggio dal punto di vista biologico corpomente nasce dal sole al punto di vista biologico perché noi abbiamo due nature una biologica e una divina dal punto di vista biologico nasce dal mondo elettronico dai fotoni dai raggi gamma dai vari raggi del sole lì la nostra sorgente di vita biologica sottolineo biologica e neanche per intero poi la nostra essenza viaggia attraverso i pianeti vari pianeti prendendo chi ha fatto con me le tavole essere insomma le emozioni archetipali e i talenti archetipali sa di che sto parlando e si acchiappa la struttura del corpo astrale quindi si creano le molecole della la materia questi sono stati anche poi della materia e quindi le emozioni e poi in terra ci mischiamo con la materia minerale col mondo minerale la parte organica queste tre questi tre fattori elettronico molecolare e minerale creano il mondo cellulare questa cosa straordinaria dotata di un'intelligenza incredibile tutta 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 da scoprire in cui viaggia un intelligenza che non è un codice non abbiamo capito ancora niente il dna è un intelligenza straviva straviva super intelligente che qualcosa possiamo sperimentare la materia cellulare che deriva da questo viaggio che abbiamo fatto attraverso queste forze che noi crediamo essere fuori e il sole sta fuori no e non dovete credermi però sappiate che il sole che viene studiato anche fisicamente non esiste là fuori sta dentro di te il cervello che è fatto a specchi e crea specchi esterni ma questo è un ologramma creato da frattali questa struttura mentale è difficile di difficile consapevolizzazione quindi non è questo l'ambito avremo modo di chi non ha già forgiato questa consapevolezza questa possibilità non faccia cazzotti con la mente la cosa che mi interessa però farvi già toccare con mano è che c'è un prima però c'è un prima noi veniamo da un'altra categoria noi superiamo il sole noi veniamo da molto prima superiamo marta giove saturno tutto lo zodia e proveniamo dalle stelle quindi la tua coscienza parte da lì viene da lì torniamo un attimo a quel nostro cerchio dopo aver fatto questa imbevuta e quindi noi siamo in una caduta voi guardate questo processo dal punto di vista individuale e dal punto di vista collettivo dal punto di vista individuale tu fai questo percorso ma anche dal punto di vista collettivo adesso che siamo nell'era dell'acquario siamo infatti già una trentina d'anni durerà un'altra ventina d'anni la sovrapposizione tra il vecchio mondo e il nuovo mondo no diciamo nel 2050 dovrebbe essere consegnato totalmente l'energia all'acquario femminile puro e quindi probabilmente possiamo dire che stiamo uscendo definitivamente dal punto più basso vedete qua è nero qui c'è la totale più bassa coscienza io mi identifico ascoltate questo passaggio solo che siamo alle otto un po tardi però proviamo a fare attenzione qui io mi sto identificando sbagliando credo io ma non stiamo sbagliando in stefano petrucci dimenticandomi di essere anima ma questo esercizio esercizio necessario straordinariamente utile perché tu possa forgiare un io che non è l'io della personalità ma un io animico perché ciò che porteremo poi nell'intervita nel dopo morte o nella vita spirituale che sarà eterna preparate sarà quell'io non lo stefano petrucci d'equa quindi nel cali yuga che è l'era più bassa della coscienza umana che stiamo alla fine del cali yuga è proprio qui adesso si rientra in un era d'oro per entrare nell'era d'oro noi dobbiamo abbandonare i pesi stiamo tornando adesso esattamente adesso stiamo tornando tutti insieme e chi non chi non fa determinate cose non può partecipare e verrà verrà durante la notte nel letto uno verrà lasciato uno verrà preso noi stiamo per ritornare a noi stiamo già tornando a noi molti di noi stanno già con il noi di là stanno già vivendo le dimensioni attraversate intrecciate tanti di noi tanti ecco perché con forza io dirò tutto quello che vi devo dire tutto quello che vi devo dire perché io sono un testimone di prima mano pur se non essendo un conoscitore verticale e con cui potete in qualche modo sbizzarrirvi con domande tecniche di tutte le filosofie mondiali o i pagine cosa non sono quello non so ma io ho intrecciato tante conoscenze in virtù di quelle che servivano a me per dare un senso a quello che io vi vivevo di vissuto vivo adesso il momento di capire che stiamo facendo il pieno di oscurità viva dio dentro e fuori di noi dobbiamo saper stare essere presenti a questo processo perché se siamo presenti local viviamo e voliamo proprio il momento più difficile allora questo risalire richiede non più una separazione monton un matrimonio il matrimonio alchemico e tra se se stessi tra la parte animica la parte spirituale ci capiremo meglio tra anima e spirito tra se stessi quindi noi abbandoniamo il conflitto entriamo nell'amore l'ascesa è fatta di amore un riconoscimento di sé un abbandono di tutti i pesi i pesi che ci hanno legato ma sono stati utili a sviluppare una temporanea sbagliata ma non sbagliata temporanea identificazione nell'io ego perché serve a imparare a identificarsi a sviluppare una volontà la volontà la volontà la tua volontà è loro che si deve manifestare e non si manifesterà mai se tu non sei capace di sviluppare un io questo è il punto falsi umili falsi santi falsi personaggi che non hanno in sé la violenza di andarsi a conquistare quella quella bellezza ci vuole violenza ci vuole proprio quella forza quel bisogno urgente perché io lo so lo sento che mi devo andare a riprendere la mia natura la mia purezza per farlo con amore con determinazione spazzolo via quella che non sono e lascio andar via tutte le sovrastrutture emotive di pensiero di credenza che non mi consentono di crescere a livello successivo se io sono alla prima elementare come posso pensare di voler ragionare come alla prima elementare se sto andando la seconda la terza la quinta non devo essere contento di cambiare qualche idea se io non mi attacco alle mie idee pensando che siano quelle definitive non ho capito niente devo essere disposto a morire ogni giorno le mie idee ogni giorno le mie scoperte i miei attaccamenti e miei legami siamo chiamati a questo in questo periodo ecco perché stiamo parlando anche di morte perché qua bisogna imparare a morire due volte qua bisogna imparare a sentire la morte qua invece a vivere alla bellezza della morte e qui stiamo imparando a dissolvere le basse frequenze ea identificarci in anima ecco perché vogliamo risalire perché io non sono più quello io sono quell'altro ma non faccio a canzotti con quell'altro no perché quell'altro e rappresenta qui spirito io mi emoziono veramente c'è il corpo non è una cosetta così ma poi scopriremo che infatti poi ho preparato un'immagine che potrà sembrare strano anima e spirito potrebbero in qualche modo essere diciamo visualizzati come anima e corpo non è esattamente così però ci aiuterebbe molto 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 di più a capire che stiamo parlando quindi c'è questo processo di risalita per tornare all'uno alla nostra sorgente comunque la nostra essenza ciò che siamo è una relazione quindi che si stabilisce tra la parte animica che io qui ho messo a destra con uno stello la stella ovviamente anima è una parte che ho raffigurato come un principio maschile non è sempre così ho detto però in questa dimensione in questo giro di boa qui nella materia anima e femminile e non molti di voi chi chi lavora con me sa si muove meglio con queste con queste definizioni è una relazione ok già questo questo sarebbe una grande informazione se tu inizia a comprendere che nel tuo conflitto c'è un film uguale per tutti c'è una parte animica che vorrebbe gioire vorrebbe chiedere all'altra coraggio dai forse portami fuori a fare questa cosa fai a sgarrare portami fuori a fare c'è questa parte animica che ovviamente poi bisogna conoscere che le frequenze delle richieste non sono quelle trasgressive egoiche guidate da paura schizofrenia perversione eccetera la follia di anima è qualcosa di speciale bisogna ovviamente no c'ha una sua frequenza e il corpo invece la mente le abitudini le idee che non te la fanno fare ecco poi che non vuole crescere è quella che vuole crescere una parte evolutiva una parte che pensa alla sopravvivenza e non ci può fare niente dentro questa scatola c'è sempre questa vitalità non è conflitto e vitalità se non sarebbe morte quella vera se non ci fosse conflitto non ci fosse vitalità quindi presidia questo conflitto di insoddisfazione permanente che io ti auguro perché se non ce l'hai vuol dire che sei morto dentro con un'altra ottica andiamo adesso ecco vedete il giro orario oscuro cadiamo nell'oscurità nel principio femminile ma sviluppiamo un'identità principio maschile dalla quale possiamo ripartire per ricreare la luce che dentro ha sempre però un lato oscuro che il vuoto il tutto dal quale ripartire lo stesso identico meccanismo al contrario nel mondo nell'aldilà è un segno opposto è un movimento uno spin anti orario della materia che va nell'aldilà tra virgolette quindi qui abbiamo e l'antimateria che crea la materia e quindi non è più il lato oscuro qui ma all'origine c'è in la luce perché lì nasce tutto da una luce primordiale che è nel lato oscuro però le verificheremo meglio ciclo vitale quindi avevo visto il loro boro cerco di essere veloce per immagini diciamo immagini possono dare suggestioni andrò perdonatemi veloce ma mi è piaciuto dare spazio alle conversazioni iniziali che erano anche molto sentite importanti ma dobbiamo entrare nella logica che una logica è una legge universale della ciclicità la vita è un ciclo 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 dire così ciclo non linea non linea che a un certo punto dice a cazzo quando arrivo là poi c'è il fosso no cosa c'è dopo il punto della morte beh volendo si può continuare anche la linea ma se tu consideri il cerchio è perfetto e allora guardate l'amore che c'è nella morte di un fiore che noi vediamo come oggetto decadente per esempio in questa foto che contiene la promessa della vita nel seme che affida il vento questo è il ciclo il il seme di una nuova intelligenza devoluta del fiore che ha fatto il suo questo pezzo di vita qualche scoperta l'ha fatta e la sta lasciando iscritta nel dna del seme il seme viene preso dal vento portato lontano e creerà una piantina che avrà quella consapevolezza quella nuova informazione più evoluta ma da che amore io muoio per un me che sarà più evoluto domani è un mistero i semi possono andare dispersi non nasce neanche uno ma dov'è il problema lo affido al vento l'informazione che c'è nel seme l'informazione che c'è nel seme della tua morte poi lo scopriano la bellezza la potenza vibrazionale di un quando una persona va via fuori dal corpo la si può spiegare o quest'altro seme perché il seme è quello che un po ridà forma alla vita eppure io per fare in modo che qualcuno prende il mio seme di vita e porti la mia vita con la nuova informazione di vita che sto crescendo che sto cambiando sto diventando una pesca diversa da tutte le altre pesche e non ce ne sarà mai nessuna è la verità io porto la mia informazione mia in un seme mi faccio polposa buona da mangiare su cosa da morire da morire c'è io frutto mi faccio morire mi faccio uccidere mi faccio buono per farmi mangiare per portare il seme la morte per me diventa la salvezza della mia vita la mia pesca grazie alla morte del frutto del mio albero quindi del massimo che io credo possa dare l'albero invece no dentro al frutto succulento che potremmo per metafora e portarlo a quello che io considero talento che mi segue sa con che accezione lo definisco il frutto il talento e la ciccia bella buona da mangiare noi da condividere con gli altri che fa piacere ciò che facciamo ma non è quello importante ci fa vivere bene l'importante è quello che fluisce dentro l'informazione che passa dentro al seme altra immagine banalissima bruco che uso sempre l'ha usata anche vincenza anche vincenza ha detto una cosa meravigliosa la farfalla si fa trasportare dal vento e allora la farfalla e il vento ragazzi il bruco che cosa dice io sono farfalla il bruco dice io sono un bruco sono il più bel bruco sono più bravo voglio diventare un bruco migliore voglio scalare e andare più veloce essere più bello voglio essere un bruco più bello un bruco migliore come molti di noi non sanno che siamo farfalle che siamo destinati a andare dopo un ciclo a essere farfalle non lo sa fa il bruco a un certo punto uno stadio terzo inaspettato di congelamento di questo processo di vita del bruco che non potrà portarlo mai nessun miglioramento che potrebbe essere paragonabile al battito di ali di una farfalla non sarà mare pagonabile nessun miglioramento che tu farai sul tuo look sul tuo parlare sul tuo lavorare sul tuo guadagnare sul tuo amare non porterà niente niente se non al bruco è un certo punto in questo dolore del di un processo che non può evolversi si crea una crisalle la promessa di una morte la promessa di una trasformazione la promessa o il mistero e dalla crisalide da una forma non forma che non contiene vita una promessa di vita una morte una tomba una bara ma un nido spunta poi la farfalla e la farfalla torniamo a vincenza sa di non essere nella farfalla nella crisalide nel brucolo ma che anche il vento e anche tutto il resto perché il passaggio poi di identificazione della propria anima individuata scopriremo cos'è con anima mondi richiede questo passaggio il sapersi identificare anche la nostra parte più alta altra immagine penso forse poi chiudiamo con le immagini evocative vedete qui il labirinto della nostra vita il labirinto che incontreremo lì se non lo sappiamo gestire sarà e certamente troveremo un labirinto anche più complicato di quello che viviamo qui però la figura del labirinto è emblematica sia per questo modo che per quello e dal labirinto come si esce il topo non uscirebbe mai se non avesse l'amica aquila che da fuori da sopra la pilota che acqua sei tu è una tua consapevolezza superiore che dobbiamo costruire dobbiamo fortificare per portare fuori il nostro personaggino lo stefano petruccino che sta imbottigliato in qualche muro che sta sbattendo lo aiuta ma poi lo lascia proprio andare non gli interessa quello non è il topolino non è stefano petrucci che sta là dentro la cosa che interessa prima o poi finirà anche questo viaggio quando stai qui c'hai altri panorami poi che incontri è un pezzettino di te che sta vivendo un battito di ciglia in questa esperienza di labirinto in questa vita che cosa sta accadendo adesso che cosa sta questo lo faccio proprio veloce perché abbiamo poco tempo e voglio dedicare alla prossima slide sta cambiando tutto siamo in un turbine ho scelto questa immagine perché veramente un vortice norma che si sta creando e quello che sta accadendo vedete questo è un pendolo che il classico movimento oscillatorio di qualsiasi entità anche pensieri le emozioni oscillano oscillano loro oscillazione tutto oscilla non tutto vibra la vibrazione non è la definizione corretta tutto oscilla e oscillano anche i nostri pensieri oscillando i nostri pensieri creano un effetto magnetico quindi attirano altri pensieri similari i nostri stessi e quelli delle persone che gravitano il nostro campo elettromagnetico quindi che conosciamo diciamo così che cosa sta accadendo adesso a questi pendoli dei nostri pensieri guardate ho scelto questo taglio questo taglio questo dettaglio perché non è che possiamo dire che cosa sta succedendo l'ho detto in tanti webinar gratuiti ne parlo da tempo e non mi esprimo su tutte le porcherie che questi criminali stanno facendo perché ci sono altri pochissimi giornalisti che lo fanno io faccio un altro mestiere quindi che cosa sta succedendo ho scelto un pezzettino qualcuna buona notizia sta morendo tutto e sta morendo innanzitutto stanno morendo le tue ideologie stanno morendo le tue credenze le tue idee i tuoi credo stanno morendo le tue abitudini stanno morendo i tuoi sogni cioè quello che tu prima ti attraeva come possibilità non ti attrae più sta morendo tutto stanno morendo le forme pensiero si stanno distaccando hanno creato tantissimo continuano a creare ecco perché c'è con la propaganda adesso una pressione inverosimile per tenere forti e saldi delle forme pensiero perché tendono tutte invece a scivolarci dal corpo ormai prima si appiccicavano perché queste creano turbi questi turbini acchiappano come le calamite se tu cammini con una calamita prendi qualche fil di ferro ogni tanto cammina con un bel gruppo di calamite le persone che hanno magari del ferro si sentiranno pure attratte funziona così più io sto in determinati pensieri più sono convinto alcune di più io intorno a me tutta una marea di vortici che creano risonanza con le frequenze similari e quindi noi stiamo attraendoci con secondo i piani di qualcuno e attraverso basse frequenze perché ci stanno vogliono far stare nella paura ma questa è una cosa un po difficile da fare perché perché c'è un movimento cosmo che ci sta aiutando a disintegrare queste paure e allora tutti questi sensazioni fisiologiche emotive e mentali che potranno in questi momenti essere molto forti inspiegabili improvvise anche nuove e dobbiamo osservare senza paura perché si stanno alzando delle frequenze del tuo corpo di vari corpi corpo fisico per cominciare che consentono di fare entrare alte frequenze spirituali e non devono le stanno già cacciando via le basse frequenze e siamo noi che facciamo resistenza perché a quelle basse frequenze c'è l'idea per esempio di come deve essere amata una zia una nonna e facciamo ancora cazzotti e non stiamo comprendendo che noi stiamo attraendo vedete questo è la toroide noi il campo elettromagnetico era ogni cosa lo troviamo anche noi tutti tutte le entità viventi questo è il campo elettromagnetico si sta purificando delle basse frequenze con un lavoro velocissimo per molti di noi che non l'hanno mai fatto questa è una grande occasione più difficile perché siamo in una piena confusione ma dall'altro punto di vista più semplice e allora tutte le nostre forme immagini che condizionano la nostra vita che ci fanno appartenere a idee che non sono nostre non sono state agganciate per paura per appartenenza per compiacenza per tutta sta roba qua se ne stanno andando da sole cioè l'essenza esce da sola siamo noi che stiamo facendo a cazzotti per mantenere dei pezzi di personalità che sono già morte dobbiamo lasciarle andare dobbiamo lasciarle andare non c'è niente che si aggiusterà da solo niente si aggiusterà e chiamata in casa la tua responsabilità la tua capacità creativa quella di essere dio creatore e quindi comincia a capire che tu già puoi fare tanto già da ora se ti lasci ripulire dalle morti dalla morte con la m grande da tutte le morti di questa falsa vita queste false idee falsi costrutti forme pensiero immagini che abbiamo coltivato sentimenti che abbiamo contro idee progetti sogni che non sono aderiscono più alla dell'essenza che sta venendo fuori non fare a cazzotti non fare resistenza anzi si sta scorciando il velo di maglia poi ne parleremo ecco perché con urgenza ci vogliono rimbottire rincoglionire perché non ci possono più seguire tra un po non ci possono più prendere apriamo le ali l'invisibile incomincia ad apparire molti di voi stanno facendo questa esperienza roberta prima di andar via non in questa testimonianza ma in un'altra diceva questo poi forse aldo ce lo potrà confermare che era nella dimensione anche del suono no io conosco quindi era immersa nei suoni e con tutte le ovviamente le i sing e le sinestesie diciamo no poi indivisive e altro si sta squarciando il velo di maio non dire fare resistenza sogniamo ad occhi aperti ragazzi stiamo entrando in quest'era vogliamo ancora mantenere vecchi privilegi non sono privilegi erano gabbia non facciamo resistenza lasciamo morire con io questa è la parte che di un a me piacerebbe molto parlare del momento che stiamo vivendo però voglio darvi soltanto questo dettaglio e lo incastriamo un po in questo mandala che stiamo per intessere insieme e a questo punto ciò che noi attraiamo attraiamo venendo meno le nostre forme pensiero è qualcosa di molto più vicino alla nostra essenza non attraiamo più incidenti imprevisti malattie roba che noi non non rientra nel nostro percorso se noi siamo al centro del nostro bisogno animico si siamo perfettamente al centro noi irradiamo frequenze che attraggono la nostra vita il tappeto che ci serve sotto i nostri piedi per andare nella direzione che più sta a cuore perché poi il cuore che crea il campo elettromagnetico del cuore che potentissimo cinquemila volte più potente quello del pensiero che però soprattutto nel campo della morte ha una sua forza dovremmo imparare a usare molto la mente soprattutto nel dialogo con i disincarnati con i defunti perché si si comunica molto col pensiero con le immagini più che con le emozioni poi parleremo bene questa è la slide con cui adesso vediamo che cosa affronteremo lo facciamo molto velocemente tanto questo è un gioco che svilupperemo più nel dettaglio noi a un certo punto nasciamo cresciamo ci ritroviamo oggi la vita presente nel qui ed ora e di fronte a noi abbiamo un futuro che si interromperà quando il nostro la nostra vita corporale finirà quindi se io sto adesso nel puntino al centro prima o il passato dopo avrò il futuro e fino a qui teoricamente ci siamo non ci siamo perché scoprirete che qua non sappiamo starci proprio noi in questo percorso ci occupiamo dalla morte in poi no vedremo che ci occupiamo dalla morte in poi ma dovremo tornare indietro anzi sarà importantissimo ci occuperemo quindi dell'intervita prima di una nuova nascita ecco questo il nostro campo prima di scoprire se la rinascita sarà nello spirito una liberazione animica oppure una nuova rincarnazione questo è il nostro tragitto le conoscenze su cui sia diciamo basiamo queste questo viaggio conoscenze antiche non sacre scritture di ogni tempo e latitudine mitologia libro tibetano egizio americano dei morti antroposofia teosofia sciamanesimo alchimia e metafisica per quanto riguarda le esperienze e parlo di esperienze mie ed esperienze testimoniate da altri ipnosi regressive ipnosi esoteriche che dimostrano centinaia di migliaia di casi raccontano tutti le stessi tipi di esperienze che sono quelle raccontate anche dai libri dei defunti di queste antiche culture il sognare il saper sognare lucido sono tutti chi ha fa esperienze di arte di sognare sognare lucido viaggi astrali si trova avvantaggiato che ha la capacità onirica no di visualizzare di stare nel sogno oppure di viaggiare fare viaggi astrali oppure addirittura di uscire dal corpo si trova avvantaggiata non fare quel viaggio nel fare sia questo percorso come sia quel viaggio lì ma noi ci dobbiamo preparare a fare determinate esperienze perché dobbiamo esperirle qui per usarle lì quindi si faranno delle pratiche con me cioè questo è un viaggio non di teoria e vi posso garantire che le più importanti non ve le farò fare perché sono forti ci sono delle pratiche forti che si fanno della morte ma di molto importanti ne faremo altre che sono pure certe per molti di voi saranno forti pure quelle ma ob e viaggi diciamo corpi le esperienze fuori dal corpo o le esperienze premorte le die testimonianze di risveglio dal coma quante che ci dicono tutta la stessa storia ricordi di altre vite persone che si da piccoli si ricordano cose di altre vite e vanno spiegate anche queste le adduzioni che sono ad opera di entità non terrestri e poi anche la scienza ci supporta in qualche modo con la fisica quantistica l'astrofisica le neuroscienze l'epigenetica io ci ho messo la filosofia che la scienza delle scienze soprattutto in vista della della farlocca scienza che hanno eletto a dio negli ultimi mesi perché quella non è scienza se poi fosse scienza scienza non sarebbe scienza ci hanno fatto diventare scienza quella che non è neanche scienza e se fosse scienza non sarebbe neanche scienza non so se è chiaro una cosa che non ha non ha tanto valore quanto gliene danno le scienze gliela l'hanno fatta come posso dire identificare in ciò che scienza non è perché non ha la falsificazione non alla sperimentazione niente niente tutto questo invece la vera scienza e la scienza delle scienze la filosofia c'è la scienza del pensare del rimettere in discussione tutto sempre come dovrebbe fare la scienza falsificare se stessa altrimenti senza non invece senza diventata un vangelo un doc e ci caschiamo tutti bellissimo stiamo facendo un gioco noi di deficienza fantastico andiamo ancora avanti quindi sono questi i nostri campi di interesse tutto il pezzo dalla premorte in poi ma poi scopriamo come ribaltarlo nella vita nel qui ed ora che cosa succede bene guardate adesso un po più nel dettaglio lo faccio molto velocemente ma più del dettaglio per capire anche le fonti come si articolano ecco dalla morte in poi sia si entra nella fase dell'intervita chiamiamola così e il viaggiatore che sei tu che siamo noi entra in un viaggio alato in queste fasi la prima fase primo stadio il chica i bardo secondo il linguaggio del libro tibetano dei morti un eserò vari linguaggi io non uso un solo linguaggio uso il mio e intreccio gli altri quindi il chica i bardo è fondamentale il momento in cui il corpo fisico il corpo eterico scusate muore corpo fisico e si sgancia il corpo eterico e e soprattutto cosa più importante di tutti veniamo lanciati in chiara luce che bello che bello appena appena tu vai via dal corpo e la transizione attenzione il momento di transizione sarà la prima lezione faremo noi di prossimo importantissima la transizione è fondamentale è un disagio ma che bello appena tu ti levi un abito di questo tipo e ti trovi subito dopo un po non subitissimo ma subito in termini percezione in chiara luce dove c'è tutto c'è tutto non ci sono più domande perché le risposte sta tutto la se la tua origine il tuo amore la tua beatitudine la tua creatività la tua pace la tua solitudine la tua ricchezza di amici di amore di tutto quello che vuoi si manifesta al tuo sentire al tuo pensare se è mancante di nulla listi ricordi chi sei che sei tutto che si dio quando dico dio dico di con dio non dico dio e prendi ai un imprinting magistrale una frequenza che ti squarcia che irrora il tuo corpo eterico e quindi ti aiuta perché il viaggio continua ahimè con una bella dote a viaggiare nella confusione che troverai con una forza sarà una luce gli abbiamo questa benedizione vi spiegherò bene che cosa scadrà non lo facciamo adesso sono mi perdo quindi c'è questo questo nostro andare a nutrirci lì è però poi un tornare per procedere nel secondo stadio il conibardo dove abbiamo a che fare con la nostra spazzatura il garmata non è spazzatura il contrario l'essenza per trovare l'essenza bisogna fare una spazzatura così è la spazzatura le tue idee i tuoi ricordi le tue emozioni le tue convinzioni i tuoi attaccamenti sono tutti attaccamenti quindi tu attaccamenti in genere attaccamenti emotivi attaccamenti fisici attaccamenti intellettivi e quindi abbiamo un primo step del secondo stadio che in cui incontriamo le guide amichevoli chiamiamole così è un secondo stadio in cui incontriamo incontriamo le guide terrifiche o indifferenti un lavoro molto più duro qua il lavoro è duro siamo nel camalota che diciamo il camaloca che è una parte qualcosa che può durare circa un terzo della tua vita se io ho 50 anni e tra nei primi tre anni che non sono cosciente 50 meno 3 47 47 diviso 3 22 anni e qualcosa sarà il periodo del camaloca poi vi spiegherò anche perché 22 anni non qui in terra 22 anni lì sono giorni qui poi ne parliamo si va avanti e e quindi lavoriamo il corpo emotivo e astrale e qui incontriamo di tutto mostri di tutto i nonni santi padre pio tutto contriamo tutto qua e ed è il gioco più duro stalla dopo c'è un altro stadio il terzo stadio che non è una barzelletta però siamo nel devashan siamo un po nel mondo spiriti spirituale il sit babardo quindi noi abbiamo una tanto abbiamo un corpo differente una percezione differente stiamo andando avanti e siamo nel corpo più mentale spirituale adesso stiamo lavorando dobbiamo distaccarci dalle immagini distaccarsi dalle immagini quindi una necessità di riconfigurare riprogrammare la coscienza noi sostanzialmente ci dobbiamo pulire prima di andare tornare nell'uno o di rincarnarci essere pulita di tutte le memorie deve rimanere solo una rivisitazione della coscienza c'è quella parte arricchita delle esperienze ma non delle esperienze c'è una parte evoluta dalle esperienze ma non i contenuti delle esperienze e noi ci attacchiamo ai contenuti è come attaccarsi un insegnamento è come attaccarsi a un maestro attaccarsi a uno strumento il maestro strumento l'insegnamento serve per farti scoprire un'altra cosa quella cosa di guardare cosa ti attacchi al maestro o allo strumento quella cosa che scopri è quella cosa eterna che tua e dentro il rapporto tu senza nessun maestro se non il tuo ulteriore poi ci siamo chiamati a la scelta dell'utero quindi siamo vicini alla rinascita sta sempre nel terzo stadio ma l'atto finale in cui qui poi si rientra in gioco siamo di fronte anche un'esperienza che nel qui ed ora ci aiuta a lavorare con l'energia sessuale perché guardate che se noi arriviamo lì senza aver fatto un lavoro sull'energia sessuale quando siamo di fronte agli uteri perché la scena della scelta dell'utero è fatto da scene d'amore e le scene d'amore come tutto lo crei tu lo crei in funzione del stato di coscienza dell'energia sessuale e quando arriviamo lì facciamo tanti casini perché noi siamo messi male da quel punto di vista se non facciamo un lavoro di integrazione del potere dell'energia vitale e sessuale quando arriviamo lì se l'ultimo gradino facciamo il casino più grosso perché proiettiamo tutte le nostre paure perversioni idee sbagliate nella sessualità dell'amore di coppia eccetera vedete quanto insegnamento può riportare la vita no ancora non l'avete non lo potete vedere perché c'è un'infinità la bellezza di sorella morte rosa lo sa rosa lo sa me mi emoziona ma sapete perché che il momento in cui se certe volte come rosa sa e lei che chiama a me si presenta alla sinistra qua la sento qua mi risveglia con un soffio freddo e quando la sento è una gioia ma non ho perché ho a che fare con un'entità che imparo a rallegrarmi con qualunque alcuni soggetti umani che è difficile rapportarsi ma perché nel momento stesso in cui la riconosco io sono sveglio e siccome io sono sveglio tante volte al giorno da tanti anni ogni volta che ritrovo quella quella grado piccolo grado di presenza soprattutto con al fianco la morte c'è una lucidità che nessuno ti dà la morte ti dà una lucidità la la falce o dentro o fuori non c'è è semplice sa tu sai perfettamente quello che hai di bisogno tu lo sai se senti se sai che stai morendo lo ricordi subito e quando la morte viene a trovarmi come ricordo come energia perché lo fa io la ringrazio ringiovanisco torno a vivere grazie alla morte e mi leva tutto il di più che si stava aggregando magari mentre mi stavo facendo la barba mentre stavo parlando oltre stavo scrivendo si stava come sempre meccanismi emotivi psicologici fanno aggrovigliando in un pensiero automatico arriva nel pensiero idea della morte cazzo ti lascia due tre cose importanti ce l'hai sì ce l'ho ci sono tutto il resto non conta mette ordine mette ordine mette amore quando noi facciamo poi questo abbiamo sempre la possibilità di tornare a chiara luce questo gioco è un gioco in qualsiasi momento noi possiamo imparare a tornare lo scopriremo quindi noi dobbiamo farlo per forza tutto non possiamo qualsiasi momento di congiungerci se sappiamo farlo scopriremo che questo è un lavoro lunare sul corpo fisico eterico mercuriale di venere per quanto riguarda il corpo emotivo e mentale il sole vedete troviamo i pianeti il sole mondo elettronico coscienziale quindi mentale superiore coscienziale e dopo dopo mica il piaggio con definisce noi dopo incontriamo forse di marte forse di venere e forse di saturno e dopo di che come vi ho detto andiamo oltre non oltre lo zodiaco fino alle stelle viaggio lungo viaggio è lungo andiamo a vedere l'ultima slide qual è lo stato del viaggiatore quando fa questa roba qua incertezza va da destra o va da sinistra perché il mondo è molto il mondo ci appare molto confuso labirintico molto più labirintico di adesso molto più labirintico per certi certe fasi in altre da un grammaticamente vuoto crea paura rabbia odio competizione dipendenza l'incertezza crea dipendenza tu diventi dipendente da te stesso da altri cose oggetti perché viaggiamo nell'incertezza c'è incertezza nella vita c'è incertezza prima di morire dove andrò incertezza nella transizione tu sarai molto incerto lasci un vestito entri un altro e guardate sapete perché incertezza perché c'è da una parte un dolore possibile o vivi vivente e dall'altra c'è una beatitudine se non ci sarebbe certezza sarei sicuramente arrabbiato sicuramente spaventato no sono incerto perché c'è uno stato di benessere che sperimento sia in questa vita è una gioia soffusa perché la tua essenza gioia quell'anima proprio che vuole vivere e sia dopo quindi è dato da questo da quest'altalena no una cosa che reputiamo negativa ed è una cosa che sentiamo essere bene e l'equilibrio estatico per esempio quando io vado in chiara luce è bellissimo è mica tanto bello sai perché perché non è facile tenere tanto amore dentro non è facile non è facile tenere tanta beatitudine tanta gioia dentro fa male fa male esattamente come la morte quindi quando io sto in chiara luce devo saperci stare perché come diceva socrate quando siamo siamo lanciati nell'assoluto da un'intuizione da un illuminazione siamo accecati così forti dalla bellezza della scoperta che la prima cosa che sentiamo è paura è vero e scappiamo da quella luce quindi bisogna saper stare anche nella chiara luce le esperienze crude che vediamo nel kamaloka e ciao esperienze forti bisogna abituarsi qua faremo pratiche perché se no è inutile non dobbiamo essere sensibili suscettibili alle espressioni simboliche della nostra immaginazione che siamo noi che le creiamo esperienza di sognanti creano tanta incertezza non sono semplici da gestire quelli visionari con le immagini i sogni quello è un momento molto particolare quando abbiamo diciamo la possibilità di nascere in una nuova reincarnazione qui in terra poi si rinasce altro stordimento poi c'è una vita finalmente ma se io faccio tutte queste frasi queste fasi in presenza consapevolezza e amore quello che spero sono sicuro che per molti di voi ma tutti quanti noi costruiremo insieme ci libereranno dall'incertezza di tutte queste fasi a cominciare la nostra vita nel qui ed ora per poi essere più pronti in tutte le fasi del dell'intervita e passare a una vita che è una vita vera mi vita piena il bruco ecco vedete quella è la vita del bruco la prima questa è la vita della farfalla passiamo a un altro modo di intendere la vita programma in una slide tanto è poco importante perché le cose sono ben più dense di quelle che potranno apparire prossimo incontro vita e premorte la condizione umana e il risveglio secondo incontro la morte il momento della morte la transizione terzo chiara luce il primo stadio chiara luce i primi giorni post mortem quarto proiezione delle energie emotive quindi le guide amichevoli del secondo stadio proiezione delle basse energie emotive le guide indifferenti del secondo stadio le immagini mentali la riconfigurazione della dimensione della coscienza il terzo stadio ancora terzo stadio scelta dell'ultimo rinascita concludiamo con nuova coscienza emergente e questa costellazione ne deve diventare espressione almeno parte di voi certamente ne voglio augurare e quinta dimensione che dobbiamo imparare ad abitare con urgenza con urgenza non la quarta la quinta dobbiamo proprio andare oltre e parleremo il nostro lavoro quello che faremo vi potrà sembrare ma serve proprio a questo arrivare al lotto cioè a questo punto in cui noi costruiamo una nuova nostra coscienza e iniziamo ad abituare abitare le multidimensioni in maniera costruttiva cioè con programmi creativi accompagnamento alla morte e connessione con i defunti quindi come mettersi al servizio del morente della famiglia dei parenti seguirlo nel premorte seguirlo nella transizione e nei giorni successivi per chi di noi venisse chiamato volesse mettersi a disposizione energetica della preghiera e accoglienza degli ami anime nascenti condividerò con voi i contenuti del mio prossimo libro è proprio energetica della preghiera uscirà nei prossimi giorni e perché dobbiamo imparare a sognare a costruire a creare insieme e e già che molto del nostro indirizzo delle nostre creazioni delle nostre preghiere chiamiamole così dovranno e potranno essere rivolte non solo ai defunti perché se io posso parlare ad anima di uno che ha lasciato il corpo posso lasciare posso parlare ad anima che sta entrando io qui non vi voglio dire niente perché io non ho non ho nessun mio collega non ma neanche un maestro qualche libro anche se anzi se trovate voi dei precedenti ma è una strada che ho sentito per un'intuizione per intuizione molto di più c'è una serie di cose reali nel dialogo con l'inconscio e con l'anima che allo stesso modo si possono fare per gli anni nascenti e veniamo le prepariamo e prepariamo facciamo vedere quello che arriva perché abbiamo bisogno anche di questo costruire proprio una costellazione di anime consapevoli di questa possibilità connettiva e basta l'intento spostare l'idea di chi sei number one dissolvere le frequenze della paura perché abbiamo bisogno di ripulirci noi di farci vedere puliti fuori fuori c'è il casino la gente è terrorizzata dalla paura della morte dall'idea della morte dalle paure in genere portiamo amore portiamo conoscenza consapevolezza placiamo le nostre ma possiamo essere anche che cosa sviluppa questa consapevolezza dovrebbe sviluppare autodeterminazione responsabilità e cooperazione perché finché io ho paura della morte e penso che se non fai tu quella cosa muoio io e allora è colpa tua allora interesse vita mia e morte tua tutte ste cazzate qua continueremo ad avere poca forza finché c'è una possibilità su un'infinità di possibilità che tutte le anime che dico tutte le animi viventi entrino a far parte di questo cerchio tutti quanti noi animicamente ma per una forza inaluttabile spirituale lo desideriamo stiamo ad aspettare ok anche una sola anima non lo lasceremo mai indietro mai mai ma non fermiamo il nostro cammino quindi non non lasciare indietro gli altri non vuol dire fermare il proprio cammino perché il proprio cammino è a cerchio quindi prima o poi la ripeschiamo se va troppo lenta non fermiamo noi andiamo più veloci altri obiettivi accompagnarci reciprocamente la morte io non so se è arrivato giorgio adesso chiudo i microfoni per un saluti finali anche a gabriele se c'è ancora volevo dare la voce a giorgio io c'ho già un lettore quando io morirò giorgio ma anche altri che vorreste aggiungere sicuramente la mia compagna ma chiunque volesse può con un certo modo vedremo di che si tratta essere anche parte di questo accompagnamento importante da qua accogliere le anime nascenti creare consapevolmente vedremo perché perché tutta quella spazzatura è quello che ci che la morte ci invita a levarci è quella che ci aiuta a creare già qui questo è il mio auspicio vivere in pienezza senza paura di vivere né di morire perché la paura è quando anima dice dai portami la fai questo fai quest'altro e la persona io dice no aver paura di vivere non è di morire ma questa cosa la devi trovare tu dentro questa cosa questa possibilità i corsi e le sessioni saranno di circa due ore vedete che mi lascio un po allargare preparatevi e vi prego anche di considerare che quella mezz'oretta in più oretta in più che io dono può essere utile per mantenere un cerchio e vorrei che questo cerchio sia un cerchio come la maggior parte dei cerchi comunque che crea delle dinamiche poi virtuose ci saranno delle parti di letture di accompagnamento perché accompagnare se la morte vuol dire anche entrare in contatto con determinate frasi parole verità e letture ok e poi la redazione del diario alchemico che generalmente nei miei percorsi faccio utilizzare che ci consenti fare uno scatto in più su certi tipi di trasmutazione detto questo vi saluto almeno diciamo con questa presentazione e sapete che questo per chi partecipa in realtà non sta prendendo una sola quota ma ne prende due e ho fatto questa cosa perché questo 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 argomento che è un tabù avere qualcuno con cui aver sfondato la porta del tabù è importante non poter fare un percorso insieme quindi sappiate che chi sta acquistando una quota in realtà ne sta acquistando due molti di voi hanno già segnalato il compagno di viaggio e quindi ricordate questa questa possibilità e cos'altro dire le elezioni sono scaricabili anche in differita mi rimarranno visibili se le perdete fate tardi poi verrà consegnato alla fine di ogni sessione un delle slide che contengono appunto la struttura dei contenuti durante la settimana attraverso il gruppo whatsapp si fanno i lavori di scambi delle esperienze testimonianze anche delle pratiche che darò ci sono le pratiche ma tante tantissime ne faremo poche vi prometto non vi riempirò come quintessenza e però ci saranno anche quelle detto questo io ho finito con le mie informazioni grazie